Ciao, sono Carlo Di Martino e sono un broker. Ho conosciuto Assicuratore Facile leggendo il libro scritto da Simone Costenaro e siccome non mi sento mai arrivato e non sono uno che si accontenta facilmente, ho deciso di intraprendere il percorso della scuola, del quale posso semplicemente dire che sono pienamente soddisfatto sia per le nozioni ricevute che per la voglia di imparare che ti trasmette, ma soprattutto mi ha dato la certezza che qualunque cosa venga costruito dalla squadra Assicuratore Facile sarà fatto ad altissimo livello e solida esclusivamente per il bene della categoria. Complimenti a tutti!